Ciao! Leggiamo? Allora, leggiamo un libro? Adesso vediamo quale libro scegliamo. Prima però facciamo partire il nostro draghetto. Drago, ci accompagni nella lettura? Wow, eccolo qui! Guardatelo che vuole assieme a noi. Ciao Drago! Poi ti daremo anche un nome. Wow, eccolo qua! Ok, andiamo a scegliere il libro adesso. Vediamo un po' quale scegliamo, quale scegliamo. Ce ne sono tanti. Qui, qui, vediamo un po' quale prendiamo, quale prendiamo. Alice? No. Alice, no. Questa? Il punto, no, non vuol venire. Questa? Il piccolo bruco mai sazio? Sì, ok. Dai, va bene, leggiamo questa. Vedete che andiamo tutti insieme. Pronti? Ci mettiamo in posizione e leggiamo. Ok? Eccoci qua. Eccolo col buco mai sazio. Vediamo un po' chi è questo bruco e che cosa fa. Cosa ci combini oggi, bruco? Ah, inizia con una bella giornata di sole. E poi invece c'è la notte, di notte, su una foglia illuminata dalla luna c'era un piccolo uovo. Lo vedi? Lo vedete? È lì. Guardate, eh? Che mi metto meglio. C'era un piccolo uovo su una foglia. Ma non bella domenica mattina, quando si levò il sole, caldo e splendente, dall'uovo, uscì un piccolo bruco, affamato. Eccolo. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una, che cos'è questa? Una mela. Però non riuscì a saziarsi. Allora martedì mangiò due, due cosa sono queste? Due pere. Però ancora non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre, una, due, tre, tre prugne. Ma ancora non riuscì a saziarsi. Allora giovedì mangiò una, due, tre, quattro, quattro, quattro fragole. Ancora non riuscì a saziarsi. Allora venerdì mangiò una, due, tre, quattro, cinque, cinque arance. Ancora non riuscì a saziarsi. Allora sabato, ma il sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato alla marena, un cetriolo, un pesto di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, un plum cake e una fetta d'anguria. E alla sera aveva il mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e subito si sentì molto meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sassio e non era più neanche tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta chiamata bozzolo. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò ad uscire e... era diventato una meravigliosa farfalla... Eccola la nostra farfallina. La facciamo volare? Aspettate, eh, che prima è scappata dal libro da sola. La facciamo volare? Pronti? Attenzione! farfallina! Eccola! Ciao! A presto per un'altra storia, va bene? Ne leggiamo ancora, eh? Ok? Ok?